I bambini saranno così affamati sulle strisce pedonali per farsi ammazzare e poter dare alla moglie e ai figli la pensione C'è crisi Pizzette champagne C'è crisi Il fumo uccide Il vivere uccide ci sono sempre più disperati in giro ma è pericoloso di essere vivi se lo stai all'occhio finirai ammazzato C'è crisi 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 C'è crisi